Ciao ragazzi, benvenuti sul canale ND. Allora, nelle ultime settimane si sente parlare sempre più spesso dell'imminente controoffensiva dell'esercito ucraino. E un paio di settimane fa il segretario per la difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, ha detto che la questione della controoffensiva ucraina è assolutamente urgente e non può essere rimandata in nessun modo. Ma in questi giorni il presidente della Repubblica cieca, ex generale NATO Peter Pavel, ha fatto invece una dichiarazione un po' inquietante. Ha detto che l'esercito ucraino ha a disposizione un solo tentativo per contrattaccare. In questo video vediamo che cosa significa questa dichiarazione e che cosa effettivamente sta succedendo. Volevo parlarvi anche della situazione al fronte, dove l'esercito russo sta spostando alcune divisioni da Bakhmut a Avdievka. E infine volevo fare due parole anche su questa nuova escalation nucleare della Russia, sulla questione dei missili Iskander che Vladimir Putin vorrebbe piazzare in Bielorussia. Ragazzi, vi volevo ringraziare tutti per i primi mille iscritti. Mi raccomando, continuate a iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti e mettete un like se vi piace il video e rimanete con me. Grazie. Secondo una recente analisi dell'Institute for Study of War, effettivamente l'esercito ucraino nei prossimi mesi, magari con l'arrivo di una stagione più calda e asciutta, potrebbe lanciare questa tanto attesa controffensiva e rompere le linee di difesa russe. Ma nonostante il fatto che in questi giorni apprendiamo sempre più notizie sull'arrivo in Ucraina di nuovi armamenti e munizioni, c'è sempre più scetticismo su questa questione. Recentemente Vladimir Zelensky ha detto pubblicamente che l'Ucraina al momento non ha abbastanza armamenti e abbastanza munizioni per lanciare la controffensiva. Ma il punto di vista, diciamo così, meno incoraggiante di tutti l'ha espresso in questi giorni il presidente della Repubblica Ceca, ex generale nato, Pavel Peter, ha detto in particolare che l'Ucraina ha a disposizione un solo tentativo per contrattaccare. Se questa controffensiva non dovesse raggiungere degli obiettivi importanti, difficilmente i partner occidentali continuerebbero a sostenere l'Ucraina come stanno facendo adesso. Probabilmente quello che vuole dire Pavel Peter è che se questa controffensiva dovesse fallire diventerebbe davvero difficile contrastare quelle forze politiche in Occidente che insistono sulle trattative con Vladimir Putin anche a costo di fargli delle concessioni. Ma cosa vuol dire che che risultati dovrebbe raggiungere questa controffensiva? Qua ragazzi vorrei riportarvi l'analisi di Aguirre Stamazze, un esperto militare a zero. Questa analisi mi è sembrata davvero lucida e davvero interessante. Allora, secondo Aguirre Stamazze il successo di questa futura controffensiva non sarebbe tanto la ripresa del controllo su alcuni territori quanto un'effettiva sconfitta dell'esercito russo. Cioè, come spiega lui, sarebbe inutile far ritirare in sicurezza l'esercito russo per riprendere il controllo su alcune regioni, come ad esempio è stato fatto a Kherson. Se l'esercito russo rimanesse intatto e si ritirerebbe in sicurezza, tutto questo servirebbe a poco. Qua infatti viene spontanea anche l'analogia con la Seconda Guerra Mondiale, quando nei primi mesi della guerra l'esercito sovietico si ritirò fino a Mosca per raggrupparsi, leccarsi le ferite e avanzare fino a Berlino nel 1945. La Russia sta conducendo in Ucraina una guerra di logoramento e Vladimir Putin l'ha anche ammesso pubblicamente. In una guerra del genere l'obiettivo principale è quello appunto di logorare l'esercito e la popolazione del nemico. In uno scenario così è abbastanza inutile spostare la linea del fronte senza sconfiggere effettivamente il nemico. Anche gli analisti dell'editoriale The Guardian esprimono un punto di vista simile. In un recente articolo hanno spiegato che probabilmente anche una serie di controoffensive di successo condotte dall'esercito ucraino potrebbero non bastare a costringere Vladimir Putin a trattare sul serio. Per costringerlo a trattare davvero probabilmente bisogna togliergli la sua arma più formidabile, cioè il suo esercito, che tra l'altro in questo momento, come spiega il ministero della difesa della Gran Bretagna, si trova quasi interamente in Ucraina. Ora vediamo un attimo cosa sta succedendo al fronte. Come spiega l'esperto militare Ruslan Liviev, l'esercito russo attualmente sta spostando alcune divisioni dei Parà da Bahmut a Avdievka e sono riusciti a prendere il controllo di Kaminka, sobborgo nord-est di Avdievka. Come insistono diversi canali telegram russi, Avdievka potrebbe diventare una nuova Bahmut, ma secondo diversi esperti militari e diversi osservatori quella di Avdievka è una questione diversa, è una manovra difensiva. Come chiarisce l'esperto militare Roman Svitan, Avdievka, che di fatto è un sobborgo di Donetsk, potrebbe diventare per l'esercito ucraino un avamposto per liberare appunto Donetsk, che è la città più importante conquistata dall'esercito russo nel Donbass dal 2014. Infatti da Avdievka, l'esercito ucraino, potrebbe muoversi verso Jasnivka a nord e verso Larino a sud, di fatto circondando Donetsk. In questo scenario l'artilleria e i lanciamissili ucraini avrebbero nel proprio raggio d'azione tutte le posizioni russe a Donetsk. Quest'offensiva a Avdievka, come in parte anche quella a Marenka, è più un tentativo da parte dell'esercito russo di respingere le guarnigioni ucraine che potrebbero minacciare Donetsk. Questa mossa dell'esercito russo potrebbe di fatto significare che stanno lasciando perdere Bachmut e si stanno concentrando su Avdievka e Marenka per difendere Donetsk. A Bachmut stanno lasciando di fatto solo le guarnigioni Wagner e i mobilitati, che però difficilmente riusciranno a fare qualcosa di significativo, se non continuare a esercitare una certa pressione sull'esercito ucraino. Alla fine volevo fare due parole su questa nuova escalation nucleare di Vladimir Putin. Il 25 marzo ha annunciato che in Bielorussia, su richiesta del dittatore Lukashenko, saranno dispiegati i missili a corto raggio russi Iskander. Questi missili possono essere dotati di testati nucleari e hanno un raggio d'azione di 500 chilometri, quindi possono colpire potenzialmente non solo l'Ucraina, ma anche alcuni paesi NATO, come la Polonia e i paesi baltici. Ha detto anche che i depositi per gli ordini nucleari saranno costruiti entro la fine di luglio. A detta di Putin, questa mossa sarebbe una risposta alla fornitura da parte della Gran Bretagna all'esercito ucraino delle munizioni per i carri armati con l'uranio impoverito. Di fronte a tutto questo, il Pentagono ha già annunciato che non vede la necessità di cambiare la propria strategia nucleare. Cioè in sostanza per loro non sta succedendo niente di eccezionale. Effettivamente questa mossa di Putin sembra più una campagna mediatica. Ha già minacciato di usare le armi nucleari diverse volte. Dall'inizio della guerra in Ucraina ha parlato dell'utilizzo delle armi nucleari almeno quattro volte e tutte le volte i rappresentanti dell'intelligence USA ci hanno, diciamo così, consolati dicendo che non vedono movimenti concreti che potrebbero indicare dei reali preparativi dell'esercito russo per l'utilizzo di armi nucleari. Evidentemente Vladimir Putin, vista così poca efficacia di queste minacce verbali, ha deciso di far vedere che sta facendo qualcosa di concreto. Comunque io continuo a sostenere che le probabilità che Vladimir Putin usi effettivamente le armi nucleari sono veramente basse e non sono assolutamente l'unico a sostenerlo. Se vi interessa l'argomento, ragazzi, scrivetemi nei commenti che lo possiamo anche approfondire. Secondo diversi analisti, gli obiettivi di questa mossa di Putin sono fondamentalmente due. Il primo è quello di intimorire l'Occidente e il secondo è quello di occupare definitivamente la Bielorussia, garantendo una presenza permanente dei militari russi sul territorio bielorosso. Sicuramente invece le munizioni all'uranio impoverito non centrano assolutamente niente con questa mossa. Vladimir Putin infatti ha annunciato che i depositi per le testate nucleari saranno costruite entro la fine di luglio. Ma questi tempi, cioè appena quattro mesi, sono palesemente troppo brevi per costruire infrastrutture di questo genere. Quindi effettivamente erano già in costruzione da tempo e Vladimir Putin aspettava solo un pretesto per fare questo annuncio. Ragazzi, scrivete nei commenti che cosa ne pensate. Mi raccomando, continuate a iscrivervi al canale. Vi ringrazio ancora per le vostre iscrizioni. Mettete un like se vi è piaciuto il video. Grazie ancora. Ciao!